Non si può rimanere neutri, perché quando hai la democrazia, e questa è la differenza tra la vita e la morte, sotto un teranno, sotto un dittatore, lo stupro diventa un linguaggio normale, una normalità, ma non solo lo stupro del corpo della donna, lo stupro della tua identità, della tua dignità, della tua speranza e felicità futura. E penso che in questo momento a un uomo come mio padre, che ha vissuto per tutta la sua vita sotto occupazione militare, e anche quando era malato, non sapeva se spendere i suoi soldi per i nostri libri, per mandarci a scuola, o per i suoi medicinali, ha scelto di spenderli per pagare per i nostri libri. Penso alle scelte come queste, penso alle donne, adesso ai uomini in Ucraina, che devono scegliere. Le scelte hanno degli effetti devastanti. Per questo devo dire, ammiro quello che sta accadendo, soprattutto in tutta l'Europa, questo movimento solidale bellissimo, che ti fa capire che il nostro contenente vivo, che i valori che sono dignità, libertà, giustizia sociale, ma soprattutto domicrazia, vengono implementati. Il diritto alla difesa di questo popolo straordinario, in questo momento sta avvenendo. Quindi sono commossa che quelle parole, l'ho scritta un anno fa sotto la pandemia, e ho pensato, oddio, quando finisce la pandemia magari durante la nostra vita verremo la fine di queste guerre. Invece mi sono resa conto che la nostra battaglia continuerà probabilmente per sempre. Mi auguro che i nostri figli vivano un mondo diverso.